Ciao ragazzi bentornati sul canale, oggi sono ancora qua sul letto, ancora qua in pigiama, ancora qua con la stessa maglietta di qualche video fa perché sto facendo un sacco di video tutti insieme, ma i pantaloni sono diversi, olè, almeno qualcosa di diverso. Allora oggi vi voglio parlare di Restyle che è un sito che ho sempre sempre amato, sempre apprezzato e ho sempre comprato un sacco di cose e ultimamente insomma hanno fatto questa nuova collezione che io ho adorato con la felce e finalmente era tornato disponibile sia il cappello che lo zaino sul sito e allora mi sono messa lì e ho detto ok finalmente adesso posso ordinare, faccio per ordinare, tadan, è andato di nuovo sold out il cappello, sono riuscita a prendere solo lo zaino, però vabbè. Un ulteriore sfortuna è stato il fatto che una volta ordinato da lì a poco hanno aggiunto cose nuove che io avrei voluto avere, avrei voluto avere, sì sempre i miei sì ma avrei voluto avere giusto, vabbè ok vabbè fa niente, avrei fatto un ordine ancora più grande ed invece niente ormai è andata, è andata la quaglia ed è arrivato tutto. Costante di ogni video sono Elisa e Nati, questa volta c'è solo la Nati, abbiamo preso tre cosine ma proprio belline, 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 lei ha preso due magliette e io ho preso lo zaino con la felce ma va, ma penso che farà un altro ordine a breve perché le cose che hanno messo nuove mi sono piaciute veramente tanto tanto. Allora come al solito ringrazio Nati che ci dà sempre la possibilità di spacchettare le sue cose, quindi mi permetto di aprire come al solito le cosine, allora lei ha preso una taglia M e ecco approfitto anche per vedere se le taglie sono un attimino cambiate perché con i vestiti è un po' che non acquisto e sono un attimino ingrassata da qua a qualche anno, quindi ma sì, cioè di solito prendo XS e S ancora, però insomma è sempre meglio constatare perché a seconda dei vari brand ho l'XS piuttosto che la S, dire salio ho sempre avuto la S ma siccome è un po' che non acquisto abiti o comunque camicette e quant'altro preferisco controllare. Allora lei ha preso questa che è una bellissima canottiera con la luna, è meravigliosa, io la adoro e facciamo la prova, allora sì io direi che no forse è un pochettino larga però ragazzi è bellissima, molto easy, tutta nera con questa lunetta che veramente è molto molto carina e costa una stupidata perché mi pare che costi o 12 o 15 euro, una cosina del genere ed è molto molto carina. Poi mettiamola da parte e vi faccio vedere l'altra. La prossima maglietta è totalmente diversa perché ha una stampa e io adoro le stampe di restyle perché fa sempre dei disegni fantastici e poi adoro soprattutto le falene, lei ha preso una maglietta con le falene, ma volevo farvi vedere una cosa, allora intanto volevo farvi vedere l'etichetta che è abbastanza storica con queste rose nere e la stessa etichetta storica restyle e la nuova etichetta che è questa qua con le fasi lunari che è bellissima e sono due etichette completamente diverse, io mi ricordo che per l'appunto l'etichetta vecchia era così quindi penso che sia una maglietta un tra virgolette un po' vecchia comunque non delle nuove collezioni ed è bellissima sempre a canotta e ragazzi guardate la stampa, cioè la stampa è qualcosa di meraviglioso. L'adoro, guardate che bello il testo sulla falena, tutto il contorno, cioè è veramente qualcosa di spettacolare, io adoro. Questa mi fa venire voglia di andare a comprare ovviamente una maglietta nuova di restyle e ragazzi allora ci tengo a dire una cosa sulla stampa, io ho una maglietta molto vecchia, ma molto vecchia, col cavaliere senza testa bellissima e devo dire che la qualità della stampa è fantastica nel senso che non mi è mai 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 venuta via una riga, non si è mai rovinato il disegno, ecco non mi veniva al termine, quindi ve lo straconsiglio perché da quel punto di vista veramente è fantastica, ma bando alle ciance sono arrivata al mio regalo personale che è lo zainetto che finalmente è arrivato tra le mie mani, allora innanzitutto ci tengo a dire che è enorme, non me lo aspettavo così grande e adesso andiamo ad aprirlo. Allora innanzitutto è morbidissimo, è tipo scamosciato qualcosa del genere, aspettate che cerco di allontanarmi un po' di più così mi vedete meglio, è tipo uno scamosciato ed è fantastico, la cucitura di questa felce è qualcosa di meraviglioso, allora già lo amo, già lo amo, vi dico solo questo, poi sul retro troviamo la marca restyle, qua abbiamo ovviamente le spalline che sono del tutto regolabili, abbiamo qua il gancino per regolarle e abbiamo ovviamente il cartellino che è questo come vi facevo vedere nuovo perché non è quello storico ma è bellissimo, allora andiamo ad aprirla, qui c'è un bottoncino e poi abbiamo, ah ok, qua si chiude tramite questi laccetti così, quindi si va a stringere in questo modo e poi, madonna che bella, allora attenzione adesso vi faccio vedere l'interno sperando che si veda qualcosa, allora qui è un po' complicato farvelo vedere ma ci proviamo, allora qua abbiamo una cerniera ed è bellissima perché guardate c'è questo tipo cursore di tavolo Ouija che è molto bello, mentre dall'altro lato abbiamo due tasche che qua sarà quasi impossibile farvele vedere, una e una due, ci sono queste due tasche qua ed è bellissimo veramente e ripeto io non pensavo fosse così grande e sinceramente è anche bellissimo, cioè veramente sono innamorata, non vedo l'ora di utilizzarlo, non vedo l'ora di farci delle foto e ve lo stra 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 mega consiglio, costa un pochettino, costa sui 50 o 40, 48 euro forse non mi ricordo, vabbè comunque super super consigliato e sinceramente vedere come è cuscita bene questa feature mi fa venire voglia di andare a prendere il cappello appena sarà online di nuovo in stock perché come al solito quando voglio qualcosa io va tutto sold out ma mi sembra giusto e niente ragazzi siamo arrivati anche oggi a fine del video io ogni volta mi tiro sempre più indietro per cercare di essere ripresa tutta però ragazzi veramente vi stra consiglio restyle ha sempre fatto delle buone cose mi sono sempre piaciute sono anni 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 e stranni che ordinano da loro e mi sento veramente di darvi l'ok l'unica mia paura è ordinare gonne e pantaloni più che altro pantaloni perché sapete che io ho sempre questa ansia di non riuscire a mai ad entrarci quindi pantaloni online li prendo veramente e raramente però ragazzi insomma è sicuramente questo uno zainetto che merita e anche le magliette cioè veramente adoro poi per 10 12 euro questo mi pare 12 euro qualcosa del genere il prezzo è bassissimo e la qualità ci sta tutta quindi nulla io vi mando un bacione e come al solito al prossimo video ciao